Ciao a tutti e benvenuti nel settimo episodio della serie Barliamo, nel serie che giornata dopo giornata vado ad analizzare tutti gli episodi arbitrali più dubbi e discussi. Oggi andiamo ad analizzare la settima giornata di serie A, una giornata tranquilla con pochi o quasi nessun errore arbitrale, con tutti i buoni arbitraggi nelle dieci gare. Adesso andiamo a parlare di gara per gara, partendo dalla prima che sicuramente è stata una delle più animate, stiamo parlando di Salernitana-Inter arbitrata da Abisso, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6,5. Partiamo dai due episodi importanti, in una gara che è stata equilibrata fino all'ingresso di Lautaro Martinez che poi è entrato e ha segnato il poker che ha permesso all'Inter di vincere contro la Salernitana. Il primo episodio è un possibile calcio di rigore per l'Inter, avvenuto intorno al sedicesimo minuto, nel contatto tra Jomber e Thuram. Contatto che è solo alto-basso, non succede niente tra le gambe, non c'è mai fallo, ma Jomber usa molto le mani per fermare Thuram, anche come si vede da questa ferma immagine, ci sono entrambi le mani sulla schiena. Diciamo che se l'arbitro avesse fischiato calcio di rigore non ci sarebbero state grosse polemiche, sicuramente non è un episodio in cui il VAR interviene, ma è una decisione dubbia che poteva anche costare cara alle giocatori della Salernitana. Il rigore che poi nell'arco della gara c'è stato, giustamente ha segnato sempre una situazione di fallo simile, sempre una trattenuta, qua Lovato invece proprio prima trattiene Thuram, che gli scappa, poi gli frana addosso, giusta la decisione di assegnare calcio di rigore. Anche qui siamo sullo stesso discorso di prima che se l'arbitro non avesse fischiato calcio di rigore difficilmente il VAR sarebbe intervenuto, ha sicuramente più cause per intervenire rispetto al precedente episodio, perché qua si tratta proprio di un contatto che poi va anche a influire sulle gambe di Thuram, come si vede da questa ferma immagine, giusta comunque la decisione di abisso di assegnare questo calcio di rigore. Altra decisione presa in questo modo, sempre correttamente, ma questa volta grazie anche all'ausilio del fuorigioco semiautomatico, stiamo parlando del gol di Legovski, giustamente annullato per fuorigioco, grazie all'ausilio del VAR. Quindi una buona gara per abisso, ha lasciato forse un po' di dubbio solo nel primo episodio che abbiamo analizzato, però una gara che comunque ha portato a termine in modo sufficiente. Proseguiamo con uno dei big match di questa giornata, stiamo parlando di Minan, Lazio arbitrata da massa, a cui abbiamo deciso di segnare come voto, sei più. Una gara tranquilla, due episodi, partiamo dal primo, che è quello più importante, il gol giustamente annullato a Pedro, per un precedente fuorigioco di Immobile, dal punto di vista disciplinare non perfetta, manca su tutti un cartellino giallo per Zaccagni, che gli ha permesso poi di non concludere con un voto così alto, ma comunque con una sufficienza meritata. Andiamo avanti con Lecce-Napoli, arbitrata da Pairetto, a cui abbiamo deciso di segnare come voto, sette. Buona gara, partendo dall'episodio importante che il rigore ha segnato a Napoli, giustamente anche qui si tratta di una trattenuta che va a ostacolare il gioco dell'attaccante del Napoli, giusta la decisione di assegnare calcio di rigore, tornando sempre allo solito discorso, sono episodi dove il VAR non interviene molte volte, ma comunque anche in questo caso la decisione dell'arbitro in campo è corretta, è coerente poi con il metro che ha ottenuto per tutta la gara. Altro episodio è il gol giustamente annullato a strefezza per un precedente fallo di mani di Kerstovic, che va quindi conseguentemente ad annullare poi il prosiegue dell'azione che ha portato al punto al gol di strefezza. Andiamo avanti con Roma, Frosinone arbitrata da Marchetti, a QB ha deciso del Signore come voto sette meno. Una buona gara nelle decisioni importanti, qualche dubbio in più dal punto di vista disciplinare. Partiamo proprio dagli episodi, che sono i due gol della Roma, quello di Lukaku e quello di Pellegrini, entrambi giusti convalidarli, in entrambi i casi non c'è fuori gioco. Dal punto di vista disciplinare invece manca un cartellino giallo per Mazzitelli, che lo avrebbe meritato e che in campo non è mai stato ammonito. Secondo big match di questa giornata è sicuramente Atalanta-Juventus, arbitratta da Kiffi, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto sette meno. Una gara che nonostante negli ultimi anni sia sempre stata molto equilibrata, molto tesa dal punto di vista sia dell'ambiente, soprattutto in casa dell'Atalanta, sia dal punto di vista dei contrasti in campo. Una gara arbitratta bene da Kiffi, sicuramente al di sotto dei livelli che questa sfida ci ha abituato, soprattutto da parte della Juventus, che ha preferito più difendersi che attaccare, ma comunque Kiffi l'ha portata a casa in modo positivo. Due soli episodi, partiamo dal primo, che è il possibile calcio di rigore di assegnare alla Juve nel contatto tra Chiesa e Toloi, giusto non assegnarlo a contatto lieve, è buona la decisione di Kiffi di non punire l'intervento appunto del difensore italo-brasiliano ai danni dell'attaccante italiano, è giusta anche la decisione del cartellino giallo per Danilo, per una buona prestazione di Kiffi in una partita non così semplice. Andiamo avanti con Udinese, Genoa arbitratta da Mariani, a come mi decide il signore, come voto 6 e mezzo. Un solo episodio e parliamo del secondo gol di Gudmundsson, ne ha segnati tre, perché poi ne ha fatti due convalidati, e questo che era in mezzo ai due gol convalidati, giustamente annullato per un precedente fuorigioco, come si vede da questo fermo immagine, è netto, è praticamente oltre il penultimo difendente dell'Udinese per tutta la figura, giusto quindi tornare indietro e annullare il gol di Gudmundsson. Proseguiamo con Bologna, Empoli arbitratta da Maresca, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6 e mezzo. Anche qui una gara abbastanza tranquilla, un solo episodio e anche qui si tratta di un gol annullato, questa volta il gol annullato ha caputo per un precedente fuorigioco di Ewey, giusta la decisione, corretta anche annullare conseguentemente il gol, e Maresca porta a casa un buon voto. Continuiamo con Sassuolo Monza, arbitrata da Zufferli, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6 e mezzo. Anche qui, come nelle precedenti due partite, un gol annullato, anche qui per fuorigioco, stiamo parlando del secondo gol di Colombo, che è stato giustamente annullato per fuorigioco. Quindi, anche in questo caso, una buona gara per Zufferli, che si unisce a quelle precedenti di Maresca e Mariani, ma nel complesso di tutta questa settima giornata di Serie A, che ha avuto veramente poche polemiche, sia per bravura degli arbitri, ma anche, possiamo anche considerare poi l'aspetto fortuna, ma anche poi per un comportamento adeguato dei vari giocatori in campo. Concludiamo l'analisi delle dieci partite con Fiorentina Cagliari, arbitrata da Di Bello, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6. Nessun episodio particolare da analizzare, così come avvenuto nella gara tra Torino e la Sverona, arbitrata da Feliciani, a cui abbiamo deciso di assegnare come voto 6. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ce li vediamo con un prossimo video sul canale. Ciao a tutti. Noi ce li vediamo con un prossimo video.